Ciao a tutti ragazzi, siamo con Nicola Guarino, primo classificato al Comic-Con e con un giocabile vecchia Cretino Freddi ti amo Bambino spettato con il Magma Vulcano Che ammazza hai giocato, Freddi? Ho giocato Orcus Going First perché non avevo i serpentazzi per andare secondo Spiegiamo cosa sono i serpentazzi I serpentazzi Oroci Esatto, i serpentazzi Comunque, quello là Ho battuto uno Space Striker, un Altergest, un Salamagna e un Pendulum in finale di Lanzino E i Moli Prima di Terla Top c'era stato tipo un torneo con i cartellini in stile Città dei Duelli La solita puttanata che fa Bicio Quindi andiamo con la Profile Per gli Orcus ho giocato Due Arpe, due Nightmare, Mono e Mono dei Brick E poi vabbè, due di queste perché vado primo Quindi magari se non Cioè dipende dal matchup Quando vado primo ho chiudo questo, ho chiudo questo Ma se chiudo questo da primo Magari se poi non posso chiudere voglio la seconda Stonks E di loro solo due perché ho giocato Tre di sto tipo Due di quest'altro E Mono di sto coso Così loro diventano Ma mai hai giocato lui? Ho giocato lui perché così loro diventano Mono Carta Starter E infatti Lanzino l'ha visto Ah, perché non ti ammazzo Quando non riesco a extender E poi vabbè Togliendo gli Orcus Due Arpe bastano perché comunque se ricicli col bacchettone riesci sempre ad avere tutti gli Orcus quando vuoi Poi ho giocato tre di questo come extender Spiega il combo con te Lui fa combo col token degli Sky Strikers Gli Orcus non lo sanno e li stupri Anche che fai lui E rimbalza cose forte Tre di questo perché da primo fanno Winda che è auto win Da secondo fanno Mille Occhi che sgubba cose Ringraziamo Winda che l'avrei potuto evocare solo contro Salamagna Ma mi sono scordato che l'avevo nell'extra e quindi ho scartato questa di Sirena E ho puzzato quel game Poi ho giocato tre di questo perché giustamente è one card combo senza normal Super broken, mono di questo, mono e goal booster perché quando vedo questo voglio vincere È la tech card È la tech, ho giocato Amphora della vita Perché sto pazzo non ha spacchini contro le trappole Quindi se vado contro un mazzo troppo lusso e sono secondo Magari mi posso dare questa piuttosto che drone E cazzo va Secondo io ma che è Amphora della vita Molto X L'ho attivata una volta contro L'ho attivata contro Altre che sta mai fatto vincere Perché avevo pure Team Twister chiaramente Certo Stonks Poi come carte gold like tre di questa perché quando vai prima la vedi Questo perché così gioca a 39 E poi come carte gold second ho messo tre Team Twister per i mazzi di merda Visto che sto mazzo non ha rage quindi tornerò a giocare Salamagna Un mazzo di merda senza rage E poi l'entrap Vabbè questa perché è universale e questa perché è forte contro tutti ed è forte contro Pendulum Perché non si ammucca a giacal Due minuti Avrei preferito giocare Niguru Però Nisbiro contro Pendulum fa schifo perché pescano sempre quella minchia di carta Che fa il negate del porco del Ringrazia Maiello Due minuti Poi per l'extro ho giocato il token Skystriker Chiaramente i mostri degli Xtender Instant Fusion Instant Fusion E Deni Ornett Drone E detto Poi ho giocato questi due con la sirena Non lo so ho levato la sirena che prima giocava a due per mettere sto tizio Però volendo potrei levare questo E giocare tipo due sirene però molto X come cosa Esatto Che vorrei stare senza Fenice Non lo so vedelo se mette la seconda sirena Oggi in realtà non mi sarebbe mai servita quindi boh Orkust tre mono doppio troppo forti E poi Uncondition questo per TK e questo per il primo contro Lanzino Poi per la side ho giocato Un minuto Troppo forte contro tutti la seconda Tre Ogre perché appunto stanno sopra Pendulum Tre di sta carta inutile che sta sopra tutto tranne Pendulum Però l'ho sfidato solo contro Salamangret L'ho visto solo quando andavo primo Però l'oppo non aveva Entrap e quindi non mi è servito E poi ho giocato contro i mazzi trappolosi tre Reboot E poi ho giocato due Tifoni e Monocosmic Perché volevo Spacchini ma volevo anche Entrap per battere Pendulum E c'erano Siccome avevo otto slot di side contro Pendulum Ho messo questi due perché vanno bene sia contro Pendulum che contro le trappole E questo perché è più forte contro le trappole di questo Ringrazio Compari dello Skystriker Come si tratta? Michelangelo Mirto Michelangelo Mirto che mi ha dato un talloncino Visto che non ci voleva giocare nessuno E quindi non mi potevo qualificare E poi vabbè ringrazio il Danger Team Sto coglione Tutti i ragazzi mi stanno facendo la profile E l'uomo Pendulum Ringraziamo sempre l'uomo Pendulum perché è potentissimo E Dennis E Dennis Dennis deve morire Dennis deve morire Ciao